Sala Roccapriora. Tra le tante foto ne ricordo una insieme anche al nostro carissimo e compianto consigliere Emilio Belardi che in questa occasione mi piace ricordare insieme alla figura di Peter. Un salmo di Romagnoli è stato ottimato da qui, un salmo di Romagnolo, per il suo comandante, un salmo di Romagnolo, che fu ancora diventata, Emilio Belardi.